Oggi sabato. L'indagine ha consentito tra l'altro di disarticolare un'associazione per delinquere finalizzata al trasporto, la trasformazione, il confezionamento, lo spaccio di cocaina, ascisce e marijuana nei comuni di Vairano, Patenora e Calvi Risulta. Prima li attescava con la scusa di aiutarli nella gestione della casa o con la promessa di offrire loro prestazioni sessuali, poi li addormentava con benzo di arzebine per rapinarli. Vittime a Pozzuoli, in provincia di Napoli, due anziani di 72 e 76 anni, arrestata una donna, Maria Ferrante, una quarantenne già nota alle forze dell'ordine. Con il primo anziano, la Ferrante, dopo averlo convinto a farsi aiutare nelle faccende di casa, ha preparato al 72enne una trippa al sugo. Dopo i primi bocconi, l'anziano non ha ricordato più nulla. Dopo quattro giorni di ricovero, tornato a casa, si è accorto che dal suo portafogli mancavano 100 euro. Utilizzato anche il postamat da quale durante i giorni della sua degenza erano stati prelevati 1200 euro. Nel secondo caso, invece, a rimanere vittima è stato un 76enne, sempre di Pozzuoli, che aveva avuto contatti telefonici con la donna, durante i quali aveva fatto intendere di essere disponibili rapporti sessuali. Anche lui avvelenato e rapinato di 80 euro. I carabinieri della stazione di Afragola hanno rinvenuto un borsone sportivo nel sottoscala di un complesso di edilizia popolare di via Salicelle. All'interno, un fucile automatico Kalashnikov 96 cartucce e un caricatore sono in corso accertamenti per verificare la provenienza dell'arma e il suo eventuale utilizzo in episodi di sangue o di intimidazione. Nell'area dei fronti di scavo, lungo via dell'abbondanza, nell'area archeologica di Pompei, si è verificato questa notte il cedimento di parte di un tavolato moderno posto a protezione della parte superiore del fronte di scavo. Non è stato rilevato alcun danno alle strutture archeologiche né disagi ai turisti, essendo l'area già recintata per ragioni di sicurezza. Lo rende noto la soprintendenza di Pompei. L'area, si legge in una nota, fa parte dei cosiddetti scavi nuovi realizzati nel 1913, quando furono per lo più portate alla luce solo le facciate degli edifici. Tali fronti di scavo sono oggetto del progetto di messa in sicurezza previsto dal grande progetto Pompei, i cui lavori partiranno a seguito dell'emminente firma del contratto prevista per il 24 maggio. La direzione del parco archeologico ha già avviato, con il supporto del personale Ales, i lavori di ripristino della struttura. E non ce l'ha fatta il camionista di Teggiano, in provincia di Salerno, di 63 anni. Deceduto questa mattina alle 7, l'uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Eboli. Martedì mattina alle 5.30, l'uomo era stato tamponato in autostrada. Il camionista viaggiava lungo la corsia nord tra Campagna ed Eboli. Procedeva per conto suo con un'auto mezzo da 35 quintali, quando un tir guidato da un altro camionista di Castrovillari lo ha tamponato. Neanche il tempo di togliere le ultime imparcature usate per ritinteggiare e riqualificare la stazione di quarto della Circunflegrea, che i vandali sono entrati in azione imbrattando tutti i muri con scritte e disegni. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che raccogliendo la denuncia del presidente dell'EA, Pumberto De Gregorio, con il quale condivide l'appello ai cittadini a ribellarsi e a collaborare per evitare altri episodi del genere. Ora le forze dell'ordine usino le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare e punire i responsabili e qualora fossero minorenni, le famiglie vanno condannate a pagare le spese per la ritinteggiatura a Giutto Borrelli. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG1.